Ecco il calendario delle partite di questo episodio, finale. Un saluto a tutti, la Piero Gifardo e Stefano Nava, è arrivato dunque il giorno della finalissima. Vediamo quale delle due squadre ne avrà di più e si porterà a casa il trofeo. Di fronte ci sono Tottenham e West Ham. Sono state protagoniste di un cammino esaltante, ma solo per una questa avventura si concluderà con il vieto fine. I due allenatori l'avranno preparato nei minimi particolari, soprattutto sul profilo mentale. Fondamentale in questo tipo di sfide, dove il minimo errore rischia di mandare in fumo mesi di lavoro. Sono davvero curioso di vedere che partita sarà. Tecnico degli Spurs che si affida a questi giocatori. In porta Iorissi, il campione del mondo. È in difesa per Tongen con Toby Alderweiret. Lucas Moura insieme a Jungminson, centrocampo. Una sola punta a Rick Kane a fare sportellate con i difensori. Il tecnico del West Ham che ha optato per questa formazione. Il tecnico ha scelto un 4-5-1 per l'attrazione anteriore. Probabile che i due esterni di centrocampo saliranno per dare una mano all'unica punta in fase di possesso palla. andando a formare un 4-3-3. L'ultimo atto di questa competizione, le due squadre daranno sicuramente tutto in campo per superarsi, per portare a casa il trofeo, regalare una notte di festa ai propri tifosi. Se ne è parlato tantissimo in conferenza stampa e ovviamente sui giornali dell'ichiarazione dei protagonisti in campo hanno un solo comune denominatore. Tutti vogliono vincerla. Mi sembra il minimo. Sarebbe grave se un giocatore scendesse in campo per perdere. Battute a parte sono le classiche dichiarazioni prima delle gare. C'è sicuramente un po' di spavalderia, ma anche un pizzico di timore. Il rispetto nei confronti degli avversari, come dico che sia. Guai a prendere sotto gamba questo impegno delle ali. La tocca su Kane. Harry Kane! Vedremo se il duragano Kane si abbatterà con tutta la sua forza sulla difesa avversaria, come da molte previsioni. Corner in aria. Il miracolo del portiere sulla deviazione aerea. Regalano palla agli avversari. Antonio! Grande parata questa! Occhio al corner! Conclusione di testa da cancellare in fretta. Ma probabilmente non l'ha colpita quella fronte piena. Ne è uscita una traiettoria sbilenca qui. Si starà mangiando le mani perché era veramente uno splendido assist. E si chiude qui il primo tempo. Zero a zero alla fine dei primi 45. Primo tempo bloccato, come era facile prevedere. Vista la posta in palio, entrambe le squadre dovranno usare qualcosa in più se vogliono vincere. A inizio la ripresa, finale tutta da vivere. Occasione! Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Occhio a questo rancio. Aieti! Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuori gioco. L'intervento è scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario, non il pallone. Troppo irruente, ha sbagliato il tempo della scivolata. Tirendo per falciare il proprio avversario. Pallone che termina fuori, sarà semplice di messa dal fondo. Dombele. Usa bene il fisico qui e difende il pallone. Lo Celso. Lo Celso! Parata eccezionale questa! Occhio al corner. Dombele. E c'è la presa sicura del portiere. Ripartono in campo aperto. L'arbitro dà la norma di vantaggio. A metri. Tira il spinto da Iuris, ma attenzione. Grande intervento di Iuris. Mandano in campo, forze fresche. Un cambio che ci può stare a questo punto della gara. E dunque continua l'adrenalina con i tempi supplementari. C'è stanchezza, è ovvio, ma è fondamentale adesso mettere in campo tutta l'energia e cominciano i supplementari. Balla che spiove. Balla che non arriva a destinazione. Ottimo recupero della trequarte avversaria. Wilser! Raspinge Iuris, ma non è finita. Comincia il secondo tempo supplementare. Lo Celso. Bergwijn. Cerca la rete. Portiere che blocca senza problemi. Serviranno dunque i calci di rigore per conoscere la squadra che avrà la meglio. Ha il compito non facile di inaugurare la serie dal dischetto. Freddissimo, la mette dentro. Si attende solo il fischio dell'arbitro. Pallone in rete. Realizza il calcio di rigore. Guarda negli occhi il portiere. Incredibile! Parata! Parata! Fantastico! Perfetto dagli 11 metri. È tutto pronto dagli 11 metri. E c'è la parata! Che grande risposta! Grande pressione. Se segna questo calcio di rigore hanno vinto. Non c'è domani. Deve segnare. Non vorrei davvero essere nei suoi panni. Grande pressione. Errore clamoroso. La mette. È il momento della verità. Se segna è fatta. E c'è la parata del portiere. Decisivo in questa occasione l'estremo difensore. Pubblico col fiato sospeso per questo rigore. Possono festeggiare questa vittoria. Hanno gestito alla grande la pressione degli 11 metri. Ed esultano giustamente per un successo voluto con tutte le forze. E tenuto con grande fatica. E fosse proprio per questo ancora più bello. Spletti da parata nel portiere. Che para il calcio di rigore. Ha reso semplice per bravura e tecnica una parata difficile. E' un bel momento. E' il momento della celebrazione. Insomma si vanno a prendere il giusto riconoscimento. Il trofeo. E comunque è una grande vittoria. E' un'unità importante. Ma direi di sì anche perché è frutto di tantissimi sacrifici. E' frutto di tanto lavoro. E' arrivare a questo punto. Insomma bisogna essere fieri di quello che si è costruito giorno per giorno. Con tanti sacrifici. E con tanta voglia di migliorare. Di misurarsi nei confronti degli avversari. Ma anche nei confronti di se stesso. C'è la fierezza del capitano. C'è l'allegria dei tifosi. Ci sono ovviamente tutti gli aspetti del protocollo. Con i fuochi d'artificio. Con il podio. Per ricevere il trofeo. Per festeggiare. Questo trionfo così importante. Ci sono i flash dei fotografi. E beh, ma questo è il momento della festa più stranata. Meraviglioso. La foto ricordo. E la foto che rimane sugli almaracchi. Fammela fare perché è una sensazione meravigliosa. Un'atmosfera indescrivibile. La foto che rimane sugli almaracchi. E che riempie ovviamente. Le prime pagine dei giornali. La loro festa. Andiamo a vedere insieme i dati della partita e le valutazioni dei giocatori. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori. Ultime notizie. Lautaliano. Montatirato. Ultimo. Ultimo. Uno. Ultimo. 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 Grazie.